La stagione turistica è ormai alle porte, sull'isola di Schia e Balneari si preparano per accogliere i turisti che arriveranno sulle nostre coste, ma come si prospetta questa stagione estiva 2021? C'è un grande fermento da noi operatori balneari ad attrezzare le strutture balneari al meglio, anche per salvaguardare la stagione turistica 2021. C'è un qualche punto interrogativo, però io credo che tra il 20 e il 28 fine maggio, inizi di giugno, apriremo quasi il 90% delle attività balneari. Speriamo che vengono i turisti, però i turisti devono essere controllati. Allora, noi come associazione, oltre che è stato rinnovato il protocollo del 2020, quindi noi è andato benissimo con il distanziamento, come ben sapete che non è stato preso, noi per esempio per le spiagge di Ischia, di San Pietro e del Lido abbiamo alla lettera applicato il distanziamento e tutto il protocollo regionale. Logicamente ci sono meno in classico, però c'è più tranquillità e più altre situazioni. Sarà oltre questo il protocollo Covid, la prevenzione Covid-19, noi chiediamo la vaccinazione di massa come Covid-free, delle isole, che noi siamo stati uno delle associazioni che sul tavolo di concertazione della regione dell'unità di crisi ha sollecitato al nostro governatore di applicare questa norma, è stata autorizzata e noi dobbiamo applicare e fare attualmente tutti gli imprenditori balneari, tutti i dipendenti delle spiagge e in particolare i bagnini di salvataggio, gli assistenti bagnari che sono marinai di salvataggio devono essere vaccinati tutti quanti. Quindi abbiamo fatto la richiesta, ci siamo fatti nel portale, registrati nel portale, quindi aspettiamo che ci vengono a chiamare e ci vaccinano di massa tutti quanti, non ci interessa che tipo di vaccino, l'importante è che vengono vaccinati e fatti tutti quanti. Noi da parte nostra come associazione chiediamo dei controlli per i turisti, per l'altro passo, l'altra situazione, dei controlli di tamponi. L'isola Covid-free potrebbe anche essere un modo di attirare anche i turisti sull'isola, proprio per dare quella sensazione di sicurezza? Sì, quella è una fonte principale. Perché si è fatta questa Covid-free? Noi siamo delle isole, siamo tutte piccole, abbiamo le strutture sanitarie piccole, per esempio Ischiala, Rizzoli, Procida, un piccolo pronto soccorso, Capri, la stessa situazione, e sono isole piccole, e quindi non possiamo controllare tutta la gente, tutti i turisti e tutte le situazioni. Quindi su questo, maggiore sicurezza da parte del personale, dei dipendenti, di chi lavora nel turismo, ma anche da livello commerciale e tutto quanto, e maggiore sicurezza anche da parte dei turisti che vengono a controllare. Già la Grecia già si sta preparando, stanno facendo vaccinazione di massa, quindi non mi sembra giusto che la gente vada in Grecia, in Spagna, come è successo a Pasqua, una cosa gravissima in Italia, non potevi andare tra Ischia e Napoli, non potevi neanche circolare. Quindi il governo si deve muovere tutte queste situazioni. L'intento delle associazioni è di sollecitare di essere il pungolo del politico, delle amministrazioni, degli enti competenti, perché senza questo pungolo dobbiamo capire che noi ischitani siamo lasciati soli.